Per una carbonara perfetta, scopriamolo insieme Pugniamo e tagliamo il guanciale Adesso in padella Fiamma bassa e piano piano, che profumo Piano piano il guanciale rilascia tutto il grasso, diventa bello croccante Il guanciale croccante lo mettiamo da parte Con il grasso invece prepareremo adesso la crema Uova, solo tuorli Pegodino, parmigiano, pepe E sì, vi consiglio una piccola parte di parmigiano E adesso mescoliamo Metà del grasso del guanciale È incredibile, guardate